Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla statale 268 del Vesuvio sino al 5 dicembre è chiuso il tratto tra gli svincoli Somma-Vesuviana-Cupadinola ed Ottaviano-Zona-Industriale in entrambe le direzioni. E sempre sulla statale 268 del Vesuvio sino al 7 dicembre è chiuso il tratto tra le uscite Pomigliano-Darco e Somma-Vesuviana in direzione Angri. A Napoli è riaperta al traffico la Galleria Laziale in direzione Piazza San Nazaro. In direzione Fuorigrotta resta invece chiuso sino al completamento dei lavori. Per consentire un migliore deflusso del traffico è comunque istituito un doppio senso di circolazione all'interno della Galleria a quattro giornate. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Grazie a tutti.